Dai Gianni, dai Gianni. Allora, signor Gianni Rossi, volevo chiedere, alla sua veneranda età, crede di poter riuscire a giocare? No, già, già si parte con la veneranda età. Crede di riuscire a giocare su questo campo? No, 5 minuti, 5 minuti, basta. Va bene, perfetto. La piatta è tutto, a voi in studio.